Si chiude la perizia psichiatrica su Michael Alessandrini. Il trentenne pesarese Reo Confesso dell'efferato omicidio di Pierpaolo Panzieri dello scorso 20 febbraio, negli ultimi mesi è stato sottoposto a ripetuti confronti psichiatrici da un pool di sette professionisti chiamati a valutare la capacità di intendere e di volere dell'arrestato. Alessandrini in sede di interrogatorio e susseguente all'arresto dichiarò di aver ucciso l'amico perché fu una voce divina ad ordinarglielo. Interrogatore sconnessi e spesso conditi da parole deliranti sull'onda dei quali fu disposta la perizia. Alessandrini è recluso da metamarzo nel carcere di Ascoli Piceno in seguito all'estradizione dalla Romania, paese in cui fu arrestato dopo 3.000 chilometri in fuga dalla casa di Via Gavelli, luogo in cui Panzieri fu uccisa coltellate. Gli psichiatri nominati da CIP, PM, parte offesa e difesa hanno ora completato le visite psichiatriche su Alessandrini e il 31 luglio depositeranno la perizia. Medici e avvocati si ritroveranno davanti al giudice l'8 settembre per un risponso che incanalerà l'iter giudiziario. Se verrà dichiarata la totale incapacità di intendere e di volere, ci sarà un non luogo a procedere e Alessandrini verrà recluso in una REMS. Anche in caso di parziale infermità si andrà invece a processo.